Nel cuore del Centro Storico di Nicosia, la Via Fratellitesta si è animata in occasione di un fine settimana ricco di eventi che hanno portato vita e colore alla città. In parallelo alla trentesima edizione di Nicosia in Fiore e alla contemporanea sagra del braccialetto, i ragazzi del Centro Giovanile sotto la tenta guida del maestro d'arte Santino Barbera hanno allestito una suggestiva esposizione presso la chiesa di Sant'Antonio Abate, la mostra dei paramenti sacri. Troviamo vari oggetti sacri, quali ad esempio manipoli e store e poi anche paramenti che vanno dal 1500 al 1800. Troviamo anche altri oggetti della confraternita di Sant'Antonio Abate che è stata fondata il 13 agosto del 1654 che però purtroppo è ormai chiusa da molti anni, da circa un secolo perché appunto magari si è agglomerata da altre confraternite. Grazie all'attività del Centro Giovanile nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno è stato possibile ammirare corporali, manipoli, stole, nonché parametri risalenti ad un periodo compreso tra il 1500 e il 1800. Il pezzo più antico infatti è una pianeta bianca risalente al 1500, questo è tutto in argento, filo argentato. Questi oggetti normalmente conservati con grande cura all'interno della chiesa di Sant'Antonio sono stati portati alla luce per essere riscoperti dai cittadini di Nicosia e dai turisti. La mostra ha rappresentato un'occasione unica per apprezzare la ricchezza storica ed artistica del luogo mettendo in risalto l'importanza della conservazione del patrimonio culturale. I visitatori hanno per esempio potuto ammirare la statua di Sant'Antonio Abbate risalente al 1530 circa e realizzata dall'artista Antonio Riccio. Accanto ad essa la tela raffigurante la circoncisione di Gesù commissionata dalla congregazione degli artisti a Nicolò Mirabella in occasione della visita di Carlo V alla chiesa. Per appunto ricordare che qui dentro venne Carlo V nel 1535. La particolarità riguarda talo lavoro che venne dipinta direttamente dentro la chiesa. Grazie all'impegno dei ragazzi del centro giovanile e dalla guida di Santino Barbera i visitatori hanno potuto immergersi nella storia e nella tradizione riscoprendo tesori nascosti ed apprezzando la bellezza dell'arte sacra. In un'epoca in cui il passato rischia spesso di essere dimenticato iniziative come questa ricordano l'importanza di guardare indietro per comprendere e valorizzare il nostro presente e futuro.